Un litigio, molto probabilmente, per vicende legate al cibo. Potrebbe essere questo il movente dell'omicidio di Emeka Nuafor, il nigeriano di 34 anni incensurato e irregolare sul territorio, ucciso ieri sera nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento irregolare che si trova nelle campagne tra Foggia e Manfredonia. Un connazionale della vittima, Evans Nufar, di 25 anni, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio aggravato dai futuri motivi. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, pare che tra i due ci sia stato un litigio in una delle baracche adibita al ristorante, dove la vittima lavorava come inserviente. Nel corso della discussione, per questioni legate al cibo, la vittima avrebbe spinto il connazionale che si è allontanato per poi tornare poco dopo con un coltello da cucina. Con questo ha colpito il 34 anni al corpo, ferendolo mortalmente. Sarebbero stati altri ospiti della baraccopoli a chiamare i soccorsi. I medici del 118 però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello straniero. L'omicida è stato fermato dall'agente di polizia con addosso ancora i vestiti sporchi di sangue.